Ringrazio Paolo Crisafi per l'invito. Noi abbiamo sempre analizzato Milano come un esempio, una best practice di come una città possa poi in qualche modo rappresentare un treno di sviluppo economico non solo per la regione di cui è capoluogo ma anche per una parte delle paese. Dalla rinascita di Milano c'è stata di fatto una rinascita anche del mercato del real estate anche se con diverse dinamiche un pochino a macchia dell'opardo a livello nazionale. Prima del periodo Covid noi abbiamo registrato nell'ambito del mercato immobiliare una riduzione dei valori di mercato in generale a livello residenziale su tutto il territorio nazionale tranne che a Milano dove l'incremento dei valori di mercato è stato parallelo allo sviluppo economico della città e di fatto della provincia oltre che della regione. Questo perché Milano è diventato un polo di networking, di business, di convegnistica molto importante con un indotto significativo in termini economici che ha comportato una grande appetibilità di tutto il real estate sia di natura residenziale che non residenziale. Vediamo purtroppo che anche Milano in questo periodo sta registrando una flessione su questi valori di mercato anche importanti dovute anche alle misure di contenimento che sono state adottate per cercare di arginare la diffusione dell'epidemia nella città. È una città che è stata comunque colpita ad esempio più di Roma e chiaramente una situazione di contenimento ha comportato un blocco ma anche quello sviluppo di quella dinamicità che era caratteristica di Milano prima del periodo di Covid. Ora il valore di mercato è un elemento molto importante perché l'investimento si basa proprio su questo, cioè su quanto vale l'immobile, come in qualche modo l'immobile e quindi il valore di mercato possa essere sviluppato e mantenuto. E' un elemento che rappresenta un elemento che rappresenta un driver per tutti gli investitori. Noi siamo partiti come associazione bancaria ad analizzare questo fenomeno concentrandoci proprio sul tema del valore di mercato perché abbiamo visto che in realtà la riduzione del valore di mercato si aveva in tutti gli immobili tranne quelli con maggiore efficienza energetica. E noi riteniamo che uno dei driver che possa determinare la ripartenza e lo sviluppo di Milano città investendo sull'immobiliare sia il tema della riqualificazione degli immobili stessi, quindi riqualificazione in particolare in tema di efficienza energetica. Non voglio stare qui a parlare del tema del super bonus perché non esiste solo quello come driver, ma perché il tema dell'efficienza energetica è un tema che è al centro dell'agenda, non solo a livello nazionale, ma anche a livello internazionale. Ripeto, non sappiamo, l'abbiamo dissentito prima con i diversi relatori, quali potranno essere i mutamenti delle abitudini di comportamento, di utilizzo dell'immobile nel prossimo futuro. Ciò che invece abbiamo chiarezza è la centralità del tema della riqualificazione degli immobili, che peraltro è un tema che già è di assoluta attualità in molte altre città importanti o capitali europeo. Penso a chi sta a Bruxelles e vede di fatto anche il periodo che ci è potuto andare, come me, che ci andava spesso nel periodo pre-Covid, vedeva come addirittura lì venivano abbattuti, ricostruiti. Pensiamo ad esempio a Berlino, dove c'è e continua ancora a esserci non solo la riqualificazione della parte oveste, ma ancora un abbattimento e ricostruzione degli edifici dell'estero con edifici, quindi una sostituzione con edifici ancora più innovativi e ancora più di alta qualificazione energetica. Noi riteniamo che questo rappresenti il driver importante che deve partire certamente da Milano, ma rappresentare al momento della ripresa della, tra virgolette, normalità, uno degli elementi su cui poter di nuovo portare e mettere in cammino l'economia del nostro paese. Appunto partendo da Milano, ma in qualche modo toccando anche le altre città e gli altri luoghi dove è possibile far ripartire la nostra economia. Le banche italiane hanno nel proprio book tutta una serie di prodotti di finanziamento verso la riqualificazione energetica, proprio perché riteniamo che questo rappresenti uno dei driver importanti per il prossimo futuro. A livello europeo sappiamo che ci sono moltissimi investimenti volti a supportare questo tipo di finanziamenti, molti strumenti. Anche a livello nazionale sono presenti diversi, ad esempio, fondi di garanzia che possono consentire l'accesso al credito, alle imprese che vogliono avviare un'operazione di strutturazione, ma anche a livello consumeristico, a livello addirittura condominiale. Ci sono sezioni speciali di fondi nazionali. Sappiamo che nell'ambito del New Generation, Next Generation EU, e quindi il cosiddetto recovery plan, c'è una porzione significativa dedicata proprio al tema della riqualificazione. Ecco, concludo dicendo che questo può rappresentare un elemento sostanziale su cui far ripartire, tra gli altri, ovviamente non l'unico, ma sicuramente uno dei più importanti, per riprendere la valorizzazione degli immobili che sicuramente avranno subito una riduzione del valore di mercato in questo periodo e da lì partire per poi ricominciare a vivere anche da un punto di vista economico.